Per la Virtus Lanciano la traccia solcata è quella di Verona, proprio il filo diretto con gli scaligeri potrebbe regalare novità per il sodalizio frentano. I direttori sportivi della Virtus Leone e del Verona Bigon sono in costante contatto per sbloccare la situazione del portiere Nicolas De Andrade. Dopo la buona stagione scorsa il tecnico d'Aversa sarebbe contento di riaverlo a disposizione. L'estremo difensore non rientra nei piani dell'allenatore scaligero Mandorlini ed è così che per il Verona l'ipotesi di un prestito bis sarebbe ben accetta con soddisfazione di entrambe le parti. Più complicata invece è la situazione legata al centrocampista Paolo Grossi. Anche per lui D'Aversa chiede la conferma ma c'è da superare lo scoglio dell'ingaggio molto alto. In questo caso la strada per un ritorno a Lanciano è in salita. Sempre dal Verona ci sono altre due pedine che suscitano l'interesse di Luca Leone e che non rientrano nei piani di Mandorlini. Si tratta di due centravanti di stazza. Uno è il 23enne Ernesto Torregrossa, reduce da una buona stagione nel Crotone. L'altro è il cieco Mikhail Rabusic, 26enne, pure lui, reduce da una parentesi al Crotone. Anche per questi due calciatori si sta lavorando per una cessione in prestito che andrebbe a potenziare un reparto rimasto sguarnito dalle diverse partenze. Nel frattempo si tiene sotto controllo anche la pista che porta al centravanti ex Pescara Roberto Inglese fresco di promozione in Serie A con il Carpi. Nelle prossime ore si attende l'ufficializzazione di altri acquisti, in particolare del figlio d'arte Federico Di Francesco, scuola Pescara lo scorso anno alla Cremonese, e poi di Filippo Penna e di Marco Di Benedetto, i due giovani che la Juventus ha girato alla Virtus nell'operazione che ha portato i bianconeri a riscattare l'attaccante Mame Babatiam.